Mi sembra che qui si continui a parlare di questo alberghiero di inclusione pur non a mio parere volendo ascoltare ciò che con più riprese la provincia ha detto. I contributi che erano arrivati dalla regione Lombardia erano contributi destinati alla formazione lavoro, quindi un contributo diverso da quella che è invece la creazione di un istituto nuovo. Formazione lavoro di cui l'assessorato ha preso questi contributi e è già partito a fare parecchie iniziative. Per quanto riguarda l'alberghiero di inclusione abbiamo sostenuto più volte che l'alberghiero di inclusione non è stato abbandonato, tutt'altro rimane nel piano delle opere pubbliche della provincia di Bergamo e quando troveremo i finanziamenti sufficienti per poterlo costruire partiremo con la costruzione dell'alberghiero. Dello stanziamento iniziale quanto rimane? Allora stanziamento iniziale noi abbiamo utilizzato di quel primo iniziale milione i 350 mila euro per la progettazione che c'è una progettazione che è stata sia un preliminare sia un definitivo. La rimanente parte diciamo di quel milione è stata poi devoluta, torno a ripetere, all'assessorato competente, quindi per la formazione lavoro e i 4 milioni che erano arrivati ancora dalla regione Lombardia li ha l'assessorato del lavoro. Almeno indicativamente è possibile dire quando partiranno i lavori? Assolutamente non è possibile e vi spiego perché, perché come ho avuto occasione di dire altre volte pensate che circa il 90% delle opere pubbliche che questo assessorato ha sul suo bilancio sono opere pubbliche che possono essere realizzate solo dopo aver alienato delle proprietà provinciali. Se queste alienazioni non dovessero arrivare noi non potremmo fare il 90% delle opere pubbliche sulle scuole. Ci auguriamo che si possa arrivare al breve alla vendita delle azioni della Serenissima che sono quelle che dovrebbero finanziare tutte queste opere pubbliche. Non dimentichiamo che poi abbiamo anche una serie di problemi con le società collegate alle province che ci portano via parecchi soldini dal bilancio provinciale.